lo sport in collaborazione con i di studio è l'azienda italiana famosa nel mondo per la qualità dei suoi arredamenti di design ecosostenibili case cinematografiche tv hanno scelto i mobili di studio per il loro set x factor the voice importanti film d'oggi e di studio propone questi mobili a prezzi speciali che non troverete mai più arrederete la vostra casa con prodotti unici e famosi la stagione 2018 2019 si sta concludendo anche per la pallavolo emessi gli ultimi verdetti nei vari campionati ma la notizia del giorno riguarda il sestetto piemontese del igor novara protagonista della serie a1 che dopo aver ben figurato in campionato salendo sul podio si è qualificata a berlino campione d'europa di volley battendo per 3 a 1 il conegliano quella che è la champions della pallavolo è stata conquistata per la prima volta nella storia delle ragazze novaresi che già provenivano dalla vittoria in coppa italia mentre le venete avevano trionfato in super coppa l'igoro è stato strepitoso e si aggiudicava facilmente il primo set più equilibrato il secondo mentre nel terzo si faceva sentire la fatica la quarta frazione ancora equilibrata veniva risolta da un guizzo della egonu il conegliano si può consolare con la vittoria del campionato al termine del girone dei playoff nel quale le montesi non sono riuscite ad esprimersi al meglio soddisfazione grande per la pallavolista quese letizia camera in forza ligor novara che entrata nel terzo set è stata determinante per la conquista del trofeo scendendo ai campionati minori da registrare in serie c la salvezza per le cantine rasore di ovada che nei play out ce l'ha messa davvero tutta per superare tutti gli ostacoli che la separavano da un traguardo più che meritato partita chiave quella svolta sia algerino contro lingotto torino dove il sestetto del direttore sportivo alberto pastorino si è imposto per 25 16 25 22 25 15 la squadra ha affrontato la quarta del campionato di serie c con la testa giusta fondamentale è stata la vittoria in trasferta san mauro torinese al tie break in campo maschile la plastipol aveva giunto la salvezza già da una settimana per tutte le formazioni e tempo ora di riposo e di programmare i prossimi campionati id studio a basaluzzo sulla statale novio vada di fronte al centro commerciale trevalli www.idstudio.it vi aspettiamo per stupirvi anche con un omaggio il meteo in collaborazione con e intanto la musica ti prende sempre più per sognare per cantare radio city suono musica italiana radio city suono musica italiana radio city suono musica italiana 點